Un'azienda agricola biologica per natura tende a diversificare le attività. L'azienda agricola biologica di Caritas Ticino ha seguito lo stesso processo, ha diversificato le attività negli anni introducendo oltre la raccolta degli ortaggi anche la produzione del miele, la produzione dei trasformati, la biocassetta, la raccolta dei mirtilli in Valverzasca e in questa logica, in questo orientamento nuovo, ha incominciato a produrre erbe aromatiche grazie all'incontro con un'altra società ticinese, Erbe Ticino. Caritas Ticino ha scelto di collaborare con Erbe Ticino perché è una società che in Ticino valorizza il prodotto locale, le erbe aromatiche sono un prodotto molto interessante, oggi produciamo a Pollegio e in Valverzasca ma la cosa che noi interessa è diffondere anche una cultura che attraverso questo tipo di prodotto promuove anche un benessere, una qualità della vita. Nell'azienda agricola di Pollegio abbiamo anche la possibilità di produrre piantine che vengono prodotte nel nostro vivaio per la vendita a produttori come noi o a privati che scelgono di mettere nel proprio orto piante aromatiche ticinesi. Erbe Ticino nasce nel 2015 con la volontà di imprenditori ticinesi nel valorizzare la coltivazione e la lavorazione di erbe ufficinali ticinesi. Con questo progetto abbiamo voluto creare una filiera di erbe ufficinali in Ticino e ci troviamo proprio qui a Pollegio da Caritas Ticino che ha un ruolo fondamentale nella nostra filiera, prepara tutte le piantine per i nostri coltivatori in base alle nostre esigenze, timo, rosmarino, salvia, lavanda, tutte le erbe aromatiche che necessitiamo per i nostri prodotti. Caritas Ticino è un'azienda certificata Bio Suisse, ci garantisce un tipo di qualità sia a livello sostenibile che a livello qualitativo della preparazione delle erbe aromatiche. Il nostro compito è stato quello di creare questa filiera di erbe aromatiche in Ticino, dalla preparazione delle piantine alla messa in campo, alla lavorazione. L'azienda sta continuamente crescendo e abbiamo sempre più necessità di erbe aromatiche per preparare tutti i nostri prodotti. I nostri valori aziendali sono essenzialmente tre, quello di lavorare con associazioni, fondazioni e aziende locali, quello nel curare la qualità delle erbe aromatiche, ovvero la coltivazione biologica e quello di dare un valore aggiunto sul territorio ticinese.